Consegnati ieri sera a Catania i premi Chimera d'Argento sono riconoscimenti che vanno ai catanesi illustri, fra di loro anche il collega Bruno Capanna della redazione di Catania. La sala consigliare del Comune di Catania ha ospitato la ventiduesima edizione del Premio Internazionale Chimera d'Argento, organizzato dall'Accademia d'Arte Etrusca, preseduta da Carmen Arena e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Catania, ha l'obiettivo valorizzare le eccellenze siciliane e quanti si distinguono nel proprio lavoro. In questa edizione il premio, divenuto ormai l'Oscar della città, ha voluto esprimere un forte segnale di pace in un momento storico funestato. Dal conflitto russo-ucraino, tra i premiati l'Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, catanese d'origine, appena nominato segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, il comandante marittimo della Sicilia, il contrammiraglio Andrea Cottini, l'attore Gina Storina, l'ex calciatore, capitano del Catania Peppe Mascara, le rappresentanti di medicina, forze dell'ordine, culture e associazionismo per il giornalismo. I premi sono andati a Lucia Bucolo, capo progetto Mediaset, Marco Pappalardo, Umberto Teghini e al nostro Bruno Capanna di Videoregione, Canale 14. Sono davvero felice, lusingato, orgoglioso di questo premio che, insomma, sottolinea tutto quello che ho realizzato con tanta passione nei confronti di questo mestiere. Ringrazio tutti, ringrazio il direttore di Videoregione, Salvatore Cannata, l'amministratore unico, Marco Raddini, la redazione e ovviamente ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie Manuela, mia figlia Giulia che mi hanno sempre supportato in questi anni. Ritengo di fare il mestiere più bello del mondo, quello del giornalista, tanto bistrattato negli ultimi tempi e che magari può ritenersi concluso con l'arrivo di internet. Non è così dal mio punto di vista perché di professionisti c'è sempre bisogno e quindi grazie, grazie davvero, grazie alla presidente dell'Accademia d'Arte Etrusca, Carmen Arena, per la scelta di avermi conferito questo prestigioso premio. E' un premio alla carriera questo, quindi vengono tutti, c'è una commissione per curriculum vita, vengono scelti, che ha fatto più carriera, che ha dato tanto, come la medicina, che noi si prevale la medicina, il giornalismo proprio, e vi devo ringraziare soprattutto voi che fate un lavoro certosino, i giornalisti lavorano moltissimo e quindi noi ci stanno a cuore.